Vivere in una casa di riposo in tempo di Covid è particolarmente triste per gli anziani e i disabili ospiti di queste strutture. L'impossibilità di contatti personali con i propri familiari li costringe ad un isolamento che ha poi ripercussioni sulla loro salute. Per questo la CGL di Teramo e lo SPI, il sindacato dei pensionati, hanno deciso di donare una stanza degli abbracci alla casa di riposo dei Benedictis di Teramo. La stanza, progettata e realizzata con pareti di plastica, consentirà agli anziani della residenza di poter tornare a vedere ed abbracciare i propri cari senza rischi di contagio e in totale sicurezza. Abbiamo verificato che da almeno un anno le persone anziane, quindi i nostri genitori, i nostri nonni, a causa del Covid non hanno potuto incontrare i loro cari, i loro familiari. E questo ha creato disagio e sofferenza in tanti di loro. Ed ecco che come CGL e come sindacato dei pensionati della CGL abbiamo deciso di donare una struttura, appunto la casa degli abbracci, per dar modo agli ospiti di questa casa di riposo di incontrare i propri familiari e i propri affetti. Non solo qui a Teramo, abbiamo in programma un'altra consegna nei prossimi giorni su Giulianova. Il nostro obiettivo è quello di dare un po' di tranquillità, di regalare qualche gioia, ma soprattutto di offrire e poter generare delle emozioni positive. La stanza degli abbracci, soluzione approvata e sollecitata dal Ministero della Salute, regalerà un sorriso, un supporto affettivo, un istante di serenità ai fragili della residenza teramana in un momento difficile come quello attuale. La casa di riposo De Benedictis di Teramo è una struttura che consente di ospitare fino a 200 persone tra autosufficienti e allettati. Durante la pandemia però i ricoveri si sono di molto ridotti, come spiega la responsabile dell'ASP1, Elisabetta Cantore. Allora, questo anno di pandemia è stato un anno duro, molto duro, sotto ogni profilo. La De Benedictis ha una capacità di ricovero che si aggira intorno ai 200 ospiti. In questo momento siamo di molto sotto. Abbiamo ripreso con gli organi e con i ricoveri, però riportare i ricoveri ai numeri pre-Covid è faticoso.